cari fratelli grazie per essere qui riunito nella preghiera fratelli miei quante sono le grazie che chiedete ma voi vi siete chiesti quanto è grande la vostra fede spero di abbracciarvi presto e finalmente vi potrò saziare delle delizie copronte per voi fratelli amati amate dio in tutta la sua sapienza convertitevi il tempo è finito la giustizia è già su di voi vedrete palle di fuoco venire dal cielo la terra non smetterà più di tremare malattie e vecchie seppellite torneranno e malattie nuove si affacceranno pregate per i miei apostoli e per coloro che hanno sposato dio la chiesa di pietro presto verrà abitata dalla rivoluzione pregate per i potenti del mondo affinché regni la pace fratelli miei perché vi girate dall'altra parte facendo finta che il mondo sia sempre stato così non volete cambiare atteggiamento davanti all'immenso amore di dio non volete capire che tutto ciò che fa parte di questo mondo presto non esisterà più perché invasato da satana e voi che cosa fate invece di seguire la strada dei giusti prendete quella più comoda con le cose più semplici che è quella del demonio per poi morire in eterno battetevi per la vita eterna non cadete nelle fiamme infernali che come lunghe lingue di fuoco cercano le vostre anime fratelli tutto questo non lo dico per spaventarvi ma solo per scuotere le vostre coscienze per farvi capire cosa vi aspetta prendete la strada di dio sì forse più difficile ma sicura e con il mio aiuto e quello di mia madre sarete al sicuro e tutto sarà più semplice ora vi do la mia santa benedizione nel nome del padre nel mio nome e nello spirito santo amen tre vignano romano 20 luglio 2019 messaggio di gesù